Oggi andremo a scambiare una fantastica candela coccolosa Neon in server ricchi di Adopt Me e scopriremo cosa ci offrono i ricchi appunto per questo nuovissimo pet leggendario Ciao a tutti i driver sui miei matissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me un nuovissimo video trade, yes, finalmente quindi ragazzi un bel 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 mi piace adesso per i video trade in questo video appunto scopriremo cosa offrono i ricchi per i nuovi pet leggendari e neon di Adopt Me allora io vado su richiedi perché oggi mi connetto per il 947esimo giorno 50 miseri dollari e si abbiamo preso una stellina uh siamo a 280 stelline perfette possiamo chiedere il mermaid propeller ok andiamo su chiudi, con me chi c'è? una candela graziosa, ok sì in italiano ragazzi è candela graziosa non è candela coccolosa ok tutti possono fare scambi con me ma tesoro non siamo qui per te oggi bensì siamo per scambiare in realtà lui non sarebbe da scambiare questo grimorio ma siamo qui per scambiare questa fantastica candela graziosa neon allora io vado al centro e vediamo com'è la situation vi ricordo ragazzi che per chi non sapesse dove si prendono questi pet ovvero questi nuovi pet del nuovo aggiornamento che è uscito proprio giovedì quindi ieri su Adopt Me vi faccio vedere subito e ragazzi questo sembra un bel server allora la prima cosa che dovete fare ragazzi è prendere o questo pallone qui questo qui oppure prendere un pletto fry e ballare lì su lì su troverete poi tutti i nuovi pet sono lì su, lì su allora trade neon cuddly candle vediamo un po' vabbè vediamo, verifichiamo nel negozio se l'ho scritto bene non c'è cuddly ok candle perfetto ho scritto bene andiamo su in via per il momento la teniamo ehi candela graziosa ok ci togliamo da questa zona qui troppo biancaccia e quindi non si vede poi bene il pet che è neon mettiamoci bene qui e proviamo a continuare a scrivere trade neon cuddly candle vi ricordo che Adopt Me mi ha dato questo pet Adopt Me mi ha dato sia la candela oh aspettate vediamo 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 si ok ha aggiunto un cane tronchetto e di cane tronchetto ne ho tantissimi ha aggiunto una roulotte del mago ha aggiunto un anatroccolo felice ha aggiunto un robottino che si trova ancora ha aggiunto un ippocampo che nemmeno si trova più i pattini neon che sono stati appena aggiunti bolla umana vecchia vecchia oh wow ok sta aggiungendo un sacco di giocattoli ma non allora per quanto riguarda i pet sono davvero carini ma già ce li ho scriverei nice offert but no thank you ma davvero una bella 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 offerta poi ha aggiunto anche un pony cioè ha aggiunto tutti i pet che non si trovano più bella offerta davvero bella bella bellissima offerta ma no grazie prossima persona allora dicevo Adopt Me mi ha dato una cow wow quante cow but fragolina allora vabbè sono ho tipo 80 biliardi di cow quindi ok batto fragolina carino costava mille considerando che questa costa 500 lo tenete altri due ti aggiunge un pet wow ragazzi hanno fatto davvero una bella offerta uno squash squash neon cioè questa è proprio una bella offerta e questa per me è un grandissimo win per me questo è un grandissimo win e ragazzi sono davvero tentatissima di accettare davvero nice offer but no thank you semplicemente perché ragazzi io già ho questi pet non sono interessata a questi pet allora perché Adopt Me mi da questi pet allora finisco il discorso Adopt Me mi ha dato il grimorio neon mi ha dato una candela graziosa neon io lo iniziamo a inzippare qui poi mi ha dato 10 di queste box appunto per fare dei video per voi io i nice offer anche questa ma no thank you mi ha dato questi pet ci danno i star creator questi pet per creare appunto dei contenuti sul gioco in questo caso io principalmente con le cose che mi danno o ci faccio dei giveaway solitamente queste box probabilmente quando incontrerò qualche fan per i server tenderò a regalarle oppure faccio dei video oh mamma che tuono bruttissimo oppure faccio dei video dove provo a vedere cosa i ricchi offrono per questi pet per farvi capire se vale la pena o meno fare suddetti pet neon allora per il momento la Camly Candle io direi che ci vale farla neon già per le offerte che sto ricevendo sto ricevendo parecchi pet che non si trovano più soprattutto l'offerta di prima con il Bat Dragon Falorina la mucca quella era assolutamente un win proprio era un win senza nemmeno pensarci un avrei dovuto accettare considerando che la mia candela è anche no potion anche questo caso la ragazza ha aggiunto davvero tanti 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 pet anche questi sono fantastici thank you ma non sono pet esattamente che io sto cercando io vi ricordo cerchio versioni neon di pet che mi mancano e di neon me ne mancano tantissimi poi che cosa abbiamo abbiamo allora il tipo con la giraffa è andata via ovviamente la mia candela graziosa non vale la giraffa però eccola lì dodo ok anche queste ok vediamo cioè ci stanno per questo pet ci stanno facendo belle offerte allora abbiamo il ragazzo ci ha aggiunto tre Cadley Candle di cui una ride 4 Cadley Candle ok un falco quindi con questo ti ripaghi il pet che hai fatto neon un falco tigre ginger cat uccellino dell'amazzonia panda rosso gatto rosso poli di shetland shiba salamandra coniglietto e haply duckling coniglietto neon tra l'altro tigre lunare un altro bue un orangotango cioè praticamente il ragazzo sta aggiungendo tutto il suo inventario nice offert but no thank you ha fatto però una bella 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 offerta quindi ok cioè vedete per il momento sembra che valga fare questo pet neon per me già è un win quelle offerte che ho ricevuto soltanto io cerco sempre qualche neon che mi manca allora vediamo un po' pet neon che mi mancano pet neon allora questo è neon questo è mega davvero fighissimo poi abbiamo un questo che non so mai che pet è un panda un dodo un evil unicorn un axelot neon anche davvero carino considerando che va anche via la scimmia albina un unicorno mega trade megan si ente dragon for all trade for far to trade for evil e trading and that jossi for darmata emma the gamer girl vai emma che cosa mi offri shark baby shark ormai ogni volta che si aggiunge uno shark va cantata il baby shark come quando scrivevamo le uova dell'oceano baby shark allora devo dire devo dire che le offerte mi stanno piacendo di certo non valeva uno shark per quanto un leggendario molto vecchio ma posso vedere qui ocean ho sbagliato sorry eri tu no il grimorio non credo che mi piaccia per questo ok polina ok polina ha aggiunto questo cioè polina ha fatto una richiesta io ho aggiunto questo pig che carino il pig fly ride tra l'altro carino 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 anche molto vecchio aggiungerei polina no thank you poi cos'è questo wow una chimera pensavo wow ok se questi che brillano di luce propria non si capisce niente ok alex gamer vai alex vediamo tu che cosa ci offri uh neon axelot neon float neon axelot pick cioè scegli uno axelot ah asselotto assolotto non ce l'ho neon questo ce l'ho neon robo dog nemmeno ce l'ho neon lol gufo delle nevi ce l'ho pure mega mi pare infatti questi due dice scegli uno no così no fammi l'offerta che è sto pick anche se l'asselotto mi sarebbe piaciuto considerando che andrà via però era una bella offerta comunque uno di quei pet sarebbe stata comunque una buona una buona offerta è già uno scambio oca mo capiamo se l'oca non ce l'ho neon ma la vorrei tantissimo ora se stai ferma qui sicuro l'oca non ce l'ho ok ne ho due ed è rara ok oh dove è andata ho perso l'oca ragazzi ho perso l'oca eccola dai ma non è che io arrivo tu te ne vai al massimo diciamo così ti aggiungo una pozione fly e una pozione ride vabbè vabbè questo è per z ragazzi allora io in realtà per questo pet ho ricevuto oh aspettate dicevo io per questo pet ho ricevuto davvero delle belle offerte offerte spider crab lo spider crab è istantaneo decline è un istantaneo rifluta ma comunque ha aggiunto tutti i pet che non si trovano più ma per questo pet ho davvero ricevuto delle offerte assurde soprattutto quello della cow con il drago quello lì fragolina fatemi sapere voi quali pet avresti accettato quali scambi avresti accettato e fatemi sapere a questo punto se secondo voi vale la pena o no fare questo pet mio o no se vi è piaciuto questo video e soprattutto se l'avete trovato utile mi raccomando lasciate un bel 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 mi piace adesso e se tu che stai guardando questo video non sei ancora iscritto al canale ma cosa stai aspettando tappa qui sul palino e poi sul tastino rosso iscriviti mentre per vedere altri video presenti sul mio canale ti basterà cliccare sulla miniatura che vedi a schermo io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video ciao ciao